Oggi abbiamo portato a casa una gara veramente al limite, l'organizzazione è stata messa a dura prova in questi giorni per la tracciatura, abbiamo avuto i complimenti di tutti gli atleti, il comitato vanta un'esperienza di 34 anni e sono tutti quanti attivi e per noi è veramente una vittoria, una vittoria su tutti i fronti. Il meteo anche oggi ci ha messo a dura prova, la nebbia sulla parte alta però veramente è una vittoria da parte di tutti.